Come al solito, oramai sono 22 anni che c'è il seminario di simbola e ho partecipato a tutti da amministratore e come al solito questo seminario riesce a guardare da punti di vista diversi i problemi consueti. Riesce ad affrontare i temi della sostenibilità con il coraggio e con i numeri, in maniera tale da dare una visione positiva, una opportunità di leggere il mondo in un momento di grande difficoltà con una opportunità di riuscire ad arrivare al risultato. D'altro canto, se tu valorizzi il positivo puoi ottenere il nuovo positivo, se tu parli di negativo otterrai solo l'altro negativo. In un paese in cui purtroppo questo fenomeno sta dilagando, simbola, rimane questa grande e straordinaria eccezione che trova poi nella sua rete questa condivisione di intenti che diventa una comunità di rete importantissima.